L'esposto è già pronto, ci dobbiamo consultare con il professor Novani e con l'avvocato Zaccheo per individuare il giorno esatto in cui verremo qui a depositarlo. La difesa di padre Graziano, imputato per l'omicidio di Guerrina Piscaia, torna all'attacco annunciando la presentazione di un esposto per falsa testimonianza contro le sorelle della casalinga di Caraffello e lo fa immagini dell'udienza di venerdì scorso del processo in corte d'assisa religioso congolese. Le sorelle della cinquantenne scomparsa avevano riconosciuto infatti un borsello ritrovato all'interno di un trolley nella camera di padre Graziano nella canonica di Caraffello nel corso di una perquisizione. Lo stesso oggetto però non fu riconosciuto con la stessa certezza dalle donne in un primo momento. A me risulta veramente incredibile fare un esposto del genere perché non vedo qual è il motivo delle sorelle di dire una cosa piuttosto che altra. Se Alabi fosse veramente convinto di questa situazione non vedo perché, probabilmente è anche una cautela dell'avvocato, però se io avessi un cliente che mi dice guardi avvocato che non è assolutamente vero io gli farei fare una querela. Il problema della querela però, l'abbiamo visto anche in altri processi importanti quanto questo, che si pagano le querelle se si fanno contro persone con la consapevolezza di mentire e quindi potrebbe essere questo il rischio per Alabi. Le sorelle hanno riconosciuto il portafoglio, hanno richiamato la marca del portafoglio prima che gli sia stato fatto vedere, nel verbale non c'era scritta la marca, quindi voglio dire è stata una cosa assolutamente fatta alla luce del sole in udienza e per cui chiaramente insomma male non fare, paura non avere. E lo stesso Borsello è stato al centro anche dell'ultima udienza. E' stato chiamato infatti a deporre il maresciallo dei carabinieri di Sansepolcro, Lucio Merlini, che ha ricostruito la perquisizione in canonica del 16 settembre 2014, in cui fu ritrovato il trolley. Circostanza non ricordata invece dal capitano del RIS, Luca Gasparollo, che si occupò delle perquisizioni del 1 settembre 2014, ma come poi ha sottolineato lo stesso capitano, in quella circostanza i RIS non condussero una perquisizione, ma un'ispezione alla ricerca di tracce che potessero condurre ad un evento violento e criminoso.